benvenuti su bin sapiens per un altro dialogo tra me e gian andrea giacoma e gianluca bocchi dovrebbe essere se non sbaglio il decimo dialogo e questa volta ci permettiamo di interrogarci in qualche modo su temi abbastanza elevati quantomeno ancora di più di quelli che abbiamo fatto precedentemente accendo un attimino introduco il tema in questa maniera se noi ci documentiamo su alcuni studi e ipotesi su come funzionava la mente di nostri predecessori più antichi per esempio pensiamo la cultura greca di qualche migliaia di anni fa sicuramente più vicino e 3 mila anni fa che 2500 e anche più indietro si ipotizza che ci fosse una relativa estroversione non corrispondente a quella dell'uomo contemporaneo c'è una particolare proiezione della propria attenzione al mondo esterno ma che nella sua inconoscibilità rispetto a tutto quello che abbiamo conquistato come conoscenze del mondo negli ultimi 500 anni il mondo esterno era carico di proiezioni inconsapevole del proprio mondo interno cioè non c'era una netta distinzione tra interno ed esterno e quindi l'animismo e quindi un certo modo di vivere il politeismo in cui i propri vissuti interni non vissuti un po come dei movimenti di forze tra virgolette esterne cosa è successo poi negli ultimi 500 anni dal punto di vista psicologico e culturale collettivo in europa che con il crescere progressivo ma potente della conoscenza scientifica del mondo degli oggetti dei fenomeni delle forze naturali è venuta meno questa inconscia proiezione c'è stata una maggior distinzione tra interno ed esterno che dal punto di vista storico è stato evolutivo psicologicamente culturalmente con dal punto di vista collettivo però è una fase come avuto abbiamo avuto modo di accennare più volte nelle grandi conquiste alle quali non vogliamo minimamente rinunciare della modernità in certi frangenti c'è stato un po una specie di buttare via il bambino con l'acqua sporca e in questa distinzione tra interno esterno è un po come se avessimo messo in secondo piano la meraviglia del fenomeno psichico del fenomeno autocosciente anche se ne ultimamente negli ultimi anni c'è un grande ritorno di riflessioni sul tema della coscienza e allora uscendo da questo fase introduttiva ti pongo la prima domanda che non è semplice secondo te il fenomeno cognitivo psichico mentale ma anche con la sua componente di coscienza e autocoscienza come fenomeno universale perché noi ingenuamente tendiamo a pensare che ci siamo noi esseri viventi a vari gradi autocoscienti nella scatola universo ma noi non è che non siamo universo noi siamo espressione del fenomeno cognitivo psichico autocosciente che avviene attraverso questi questi fenomeni auto organizzati complessi autopoietici biologici viventi ma che sono universo ecco che ruolo gioca il fenomeno psichico e autocosciente nell'universo è riducibile soltanto alla componente materiale energetica dell'universo come alcuni propongono è un epifenomeno o espressione di un'ulteriorità in qualsiasi modo la possiamo declinare dal metafisico all'immanente come i filosofi si sono sbizzarriti su questo tu cosa ne pensi beh intanto è un invito andare al bar a bere perché devo prima di rispondere non di rispondere ma di andare di ragionare su questo tipo di discorso no e andiamo con calma perché ci sarebbero tantissime cose da dire però la prima cosa antecedente a tutto questo discorso è come non dico te quello che hai detto ma noi siamo vittime ma vittime inevitabilmente dal nostro punto di vista della modernità nel senso che in realtà il giudizio che noi possiamo dare sul mondo dei greci è condizionato dal nostro punto di vista no della scienza moderna poi anche del fatto che noi in realtà si abbiamo tante tante fonti no di come pensavano i greci eccetera eccetera però sappiamo quanto naufragio delle dei testi scritti c'è stato e poi soprattutto che nel mondo greco la scrittura aveva un ruolo si importante ma fondamentalmente marginale rispetto alla comunicazione di altro genere no allora questo discorso ti dice che sicuramente gli antichi rispetto alle cose che per loro consideravano rilevanti avevano una conoscenza del mondo esterno più avanzata di quella che si poteva pensare no per esempio la scoperta assolutamente banale che adesso diamo per scontata ma del fatto non solo dei greci ma anche di civiltanti eccedenti della precessione degli equinozi o di altri fenomeni astronomici molto sottili no dimostra che loro pura d'occhio nudo voglio dire avevano una capacità di decodifica dei fenomeni astronomici che viene dato dal fatto che l'astronomia per loro aveva una pertinenza notevolissima e non solo nei greci ma in tutte le civiltà antiche tipo certo e questo l'ha dedicato giorgio de santiani il mulino d'amleto che è un testo fondamentale per farci capire il nostro rapporto con l'antichità questo voglio dire non non dobbiamo svalorizzare tutto quello che è stato scoperto no da che pleo e galileo in poi no assolutamente no però ricordarci che anche i giudizi che noi andiamo sull'altro da noi sono giudizi molto condizionati dal nostro punto di vista attuale no nel doppio senso che da un lato vabbè vediamo quello che non era conosciuto e adesso conosciuto ma possiamo anche criticamente capire come c'era anche un discorso magari di pertinenze diverse voglio dire poi del resto è quello che ha introdotto con sull'idea di incommensurabilità della rivoluzione scientifica no ecco ma questo per dire come il tema è molto interessante da questo punto di vista ecco per quanto riguarda la prima domanda beh mi viene in mente inizio a risponderti no dicendo che la prima cosa che mi viene in mente ma l'ho anche scritta e te dici la prima domanda a me viene in mente un racconto di asimo molto famoso l'ultima domanda non perché adesso famosissima dopo non ci facciamo altre domande andiamo a casa no perché tutto sommato laddove noi non riusciamo ad avere dei come dire delle risposte formalizzate in realtà dove ci poniamo solo domande quindi è meglio allora usare tutti i nostri linguaggi quindi anche il linguaggio della fantascienza no e sostanzialmente no siccome hai parlato di entropia no è una narrazione sull'entropia no a un certo punto cioè si ipotizza che ovviamente con poi lo scenario non è tanto strano no nel senso che si ipotizzano in maniera quasi profetica no che computer pensiamo che l'ha scritto quando i computer non esisteva nei personal né nell'intelligenza artificiale no asimo l'ha scritto decenni fa però ipotizzava un progresso inaudito dei computer per cui alla fine c'è una smaterializzazione dei computer insomma di queste forme che noi diremmo di intelligenza artificiale per cui non si sa dove siano cosa fanno che capacità hanno no e l'universo poco a poco muore cioè nel senso che segue lo scenario fisico che noi abbiamo in mente adesso sulla fine dell'universo cioè quello diciamo ci sono mille ragionamenti sulla possibile fine dell'universo ma quello più standard diciamo è la morte entropica dell'universo sostanzialmente la sua dissipazione no allora si immagina che la vita rimane forse si sviluppa perché in questo scenario noi diamo per scontato che comunque la vita si può sviluppare no ammesso che non ci siano catastrofi più immediate la vita continuerà per per eoni no però con questo universo diciamo morente i viventi non possiamo dirgli umani no un vivente astratto inizia a interrogare queste capacità cognitive computistiche al di là e gli chiede ma insomma questa entropia sta aumentando l'universo sta morendo no ma ci sarà la possibilità di reinvertire questo questo processo no e per lunghissimi eoni queste entità ormai smaterializzate dicono che non ci sono elementi sufficienti per dare una risposta finché proprio alla fine cito a memoria no poi asimo lo fa in maniera molto sintetica ma noi possiamo anche raccontarla di più e a un certo punto proprio verso la fine si rifà questa domanda e a un certo punto questa entità smaterializzata dice adesso c'è la risposta e la luce fu e si crea nuovamente l'universo no a parte ovviamente che noi potremmo dire che uno può anche prefigurare in questa cosa una visione scientifica che può essere valida non non ti dico che è la visione predominante no quella dell'universo ciclico no perché ci sono dei grandi a modo loro come Penrose e Prigogin che dicono sì questo universo verrà dissipato però ci saranno delle forme di fluttuazione adesso è una cosa molto tecnica per cui la fine di questo universo non sarà la fine del tutto ma ci sarà l'origine di un altro universo no in realtà ci sono molti molte varianti su questa idea dell'universo ciclico è un'ipotesi forse forse non ti dico confermata ma plausibile però è tecnica è una cosa tecnica ma per dire che insomma poi la nostra immaginazione si pone questi problemi in una maniera anche molto semplice e poi gli scienziati li affrontano da questo punto di vista però detto questo la domanda che io mi voglio porre come preliminare poi al discorso che abbiamo già fatto è che cosa dati i limiti della nostra conoscenza che abbiamo detto incarnate in cui è un'ora possiamo dire sul destino del tutto perché il discorso è questo qua che noi adesso siamo paradossalmente nonostante tutto che poi ci sono i deterministi hard no però la maggioranza delle della visione scientifica accetta che sul breve periodo cioè sui destini della terra sul breve periodo c'è una notevole indeterminazione può essere che vabbè fra qualche anno o decennio ci sia una guerra atomica che ci mette fuori uso può darsi che cada un asteroide che ci mette fuori uso però può darsi anche che queste catastrofi le sviamo e che noi ci evolviamo in maniera anche di perché no di come dice Dyson di controllare il nostro sistema solare l'energia in maniera più efficiente addirittura trovare modi di volo interstellare insomma non lo sappiamo no accettiamo questa indeterminazione no dopodiché invece sul lungo periodo appunto sul destino dell'universo pensiamo di potere dire la nostra cioè di dire sì va bene può darsi che voglio dire la civiltà umana ma questo perché non lo diciamo noi terrestri ma la vita in genere abbia davanti a sé il meglio ancora magari siamo agli inizi no fiorirà quindi arriveranno possibilità tecnologiche in immaginabili ma a un certo punto tutto deve finire nello scenario della morte cosmica poi anche qui c'è la possibilità di catastrofi più vicine a noi ma anche più improbabili non non lo sappiamo naturalmente no c'è sempre un'incertezza no in questo tipo di discorso però paradossalmente l'incertezza è sempre su su quando e dove ci sarà la morte sostanzialmente allora questo è molto plausibile perché sulla base della fisica attuale noi possiamo dire che sappiamo anche che persino i buchi neri si dissiperanno però la domanda è e questa è una domanda radicale cioè noi come possiamo fare affermazioni sul destino del tutto o almeno del tutto che noi abitiamo con mezzi cognitivi che sono assolutamente di provincia di provincia anche di meno non solo spaziale no di un pianeta ma anche temporali no perché probabilmente una civiltà di più più avanzata di diciamo tra virgolette avanzata no di un miliardo d'anni no dico questo perché è possibile che nell'universo ci siano civiltà più avanzate di un miliardo avanzate non più vecchie diciamo così di un miliardo d'anni la potrebbe vedere in maniera diversa non sappiamo la fisica di questa civiltà no noi diamo per scontato che ci deve essere una base unitaria tutta le fisiche degli esseri viventi nell'universo ma è un'ipotesi no assolutamente no ora noi immaginiamo infatti già adesso nella nostra povertà di mezzi e di c'è chi dice ma insomma forse si potrebbe pensare che quando questo universo è inabitabile ci proiettiamo in altri universi se l'ipotesi ovviamente del multiverso è vera no c'è chi dice che addirittura esistono dei wormhole cioè questi tubi che ci portano in altri universi per cui c'è la possibilità di viaggi non ti dico interstellari ma interuniversali no poi si dice ma queste sono solo frutto della nostra immaginazione però voglio dire è un'immaginazione che fa parte come hai detto te dell'universo stesso no quindi qual è l'atteggiamento che io sosterrei sia come dire molto positivo no è l'atteggiamento che già Niccolò Cusano ha detto di dotta ignoranza cioè amare le nostre narrazioni e quindi se noi ci crediamo che è sensato parlare del futuro dell'universo è giusto fare delle narrazioni basate su quello che conosciamo noi adesso quindi per dire ci sono tante incertezze perché c'è chi dice che la materia l'energia oscura farà in realtà creerà dei problemi diciamo all'universo prima di quando si pensi ma se no l'idea che l'universo venga dissipato addirittura che i buchi neri evaporeranno eccetera eccetera è giusto fare questa narrazione no però come dire non crederci nemmeno troppo perché è sempre una narrazione da questo punto certo e questo ovviamente più ci avviciniamo a noi e più l'incertezza aumenta ma l'atteggiamento deve essere lo stesso cioè nel senso che non per avere troppo innamorazione innamorarci della tecnologia perché l'abbiamo detto in tutto questo discorso che non siamo dei messianisti della tecnologia però ultimamente no hanno detto tra 250 milioni d'anni ci sarà per ragioni abbastanza deterministiche diciamo così che poi anche lì ovviamente non è proprio così fisso dello scenario ci sarà questo continente Pangea ultima che verrà fuori dalla collasso di tutti di tutti i continenti per insomma per la tettonica zolle e come già successo in passato si creerà un vasto deserto no per cui la possibilità di abitare questo questo continente così caldo e arido sarà molto diminuita però se ci siamo ancora fa ridere no perché non noi ma i nostri ultradiscendenti qualcuno di intelligente tra 250 milioni d'anni forse qualche rimedio tecnologico si potrebbe trovare no e così vediamo per esempio una cosa molto seria è che il sole si sta riscaldando no e che quindi prima o poi ben prima che il sole esploda la terra sarà inabitabile con i criteri nostri no però sono tutte proiezioni sui centinaia di milioni o addirittura dei miliardi d'anni no e sono tutte fatte in maniera tale che non riusciamo a concepire un'evoluzione della vita all'altezza delle sfide che vengono poste e questo non è insistere sull'ottimismo tecnologico che anzi la tecnologia può anche far chiudere la storia con una catastrofe domani quindi la tecnologia è ambivalente ma sapere che c'è visto che la tecnologia c'è visto che la coscienza c'è gli scenari diciamo sul breve termine e mi fa ridere dire breve termine perché stiamo parlando di centinaia di milioni d'anni devono essere condizionati dall'idea che c'è una coevoluzione possibile non è detto che avvenga tra noi e il nostro ecosistema per cui di fronte alle sfide del caldo e del freddo la mente potrebbe rispondere in una maniera che oggi ovviamente assolutamente imprevedibile allora questo tipo di ragionamento che secondo me è abbastanza sensato per parlare dei destini della terra ammesso che voglio dire siamo un po' più saggi da adesso perché se siamo come adesso va beh chiudiamo baracca velocemente è un altro discorso ma se invece diciamo pensiamo che ha senso che ci sia una coevoluzione allora diciamo il rapporto tra vita e il nostro ambiente locale è incerto da questo punto di vista sappiamo che ci saranno grandi sfide che il sole si scalderà che la terra si scalderà eccetera 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 non è detto che questo tipo di ragionamento non si possa anzi secondo me dobbiamo porci questa idea portarlo all'estremo tipo quello che ha fatto Asimov chiaramente Asimov l'ha fatto a livello di immaginazione ma in questo senso l'immaginazione di Asimov è più avanzata di tutti i discorsi di tipo deterministico allora quello che volevo dire forse non è che anzi ti ringrazio di aver posto la domanda come avevi detto all'inizio non è che siamo un po' come i greci e che allora la nostra condizione di mortali come individui la proiettiamo sulla mortalità della vita o dell'universo siccome noi come individui moriamo allora anche questa storia di cui facciamo parte questa storia negentropica per forza di cose muore ma ripeto dotta ignoranza bisogna secondo me voglio dire quando noi parliamo anche delle radici buddiste di Varela di tutte queste cose qui questo atteggiamento no che io dico orgoglio e umiltà no poi ma ripeto forse Cusano l'ha espresso benissimo è inutile poi fare delle nostre cioè noi dobbiamo credere e stare attaccati alle nostre conoscenze ma non troppo insomma un sano scetticismo sull'assolutezza delle nostre conoscenze non significa ridurre le nostre conoscenze anzi vedi che il fatto che noi stiamo qui a parlare di conflitti di narrazioni eccetera eccetera vuol dire che anche se noi non possiamo trovare risposte però andare avanti a porci queste domande aumenta il nostro sapere infatti voglio dire tutto ciò che si dice sul futuro dell'universo e sulle sfide della vita secondo me è molto sensato e ci aiuta a riflettere ovviamente sui nostri limiti e sulle nostre possibilità quindi credo che benissimo adesso questa è metafisica no ma tutti i grandi scienziati fanno metafisica insomma quando si parla di evaporazione dei buchi neri è chiaro che metafisica perché non ci saremo noi personalmente fra dieci elevato alla cento ma è proprio questo l'intento di questa domanda che da un certo punto di vista potrebbe essere nella sua radicalità quasi provocatoria cioè anche a luce di tutto quello che abbiamo velocemente attraversato nei precedenti nove incontri una domanda che alleggiava era come riporsi oggi alla luce tutto quello che è stato vissuto nei secoli passati delle domande di senso quindi interrogarci dal punto di vista esistenziale mantenendo un giusto equilibrio e anche la ricerca del giusto equilibrio omeoreticamente come ho potuto dire più volte è da costantemente aggiustare evitando i due estremi da un lato di un riduzionismo nichilista che tende a chiudere preferisce o l'estremo opposto di una grande tentazione di utilizzare anche ipotesi scientifiche in modo troppo facilmente religioso come certi approcci del design intelligente come riuscire a non rinunciare a farsi le domande come ci facevamo secoli dietro come quando tu dicevi che gli scienziati non smettevano di essere filosofi e non smettevano di essere persone spirituali c'era una dialettica come possiamo farlo oggi alla luce anche delle maggiori conoscenze che abbiamo a mantenere questo equilibrio sull'orlo del caos potremmo dire ci sono ipotesi più recenti come quello di italiar de chardin o altro non è questione di dire qual è la soluzione perché immediatamente il bisogno di soluzione diventa una ricerca del dogma ricerca della chiusura della certezza e cercare la certezza più di stare con con quella sana incertezza ok abbiamo avuto mille esperienze per renderci conto che proprio è quell'equilibrio dinamico la zona in cui stare no è un secondo elemento è questo cioè se ci rendiamo se torniamo a renderci conto della cosa non solo come si dice tanto ultimamente nei ultimi vent'anni con lo studio delle neuroscienze verissimo e bellissimo che lo stesso studio di quanto per quello che sappiamo oggi il cervello è uno degli oggetti dei fenomeni più complessi nell'universo e chissà cos'altro che non sappiamo no ma lo stesso fenomeno psico lo stesso fenomeno autocosciente c'è tutto un dibattito aperto non di certo risolto quanto riducibile al cervello corpo quanto c'è solo una correlazione siamo ancora in alto mare dal punto di vista scientifico e filosofico su questo punto però se partiamo dal presupposto che quella meraviglia e timore che sottende la filosofia occidentale non c'è solo alzando gli occhi verso il cielo ma c'è anche guardando dentro e che questo dentro non è il mio dentro rispetto all'immensa scatta all'universo ma questo mio dentro non andare dentro l'universo perché io sono universo senza attenti a un'inflazione dell'io non solo di miciana memoria no ma anche di volte figure pseudo spirituali anche contemporanei ecco ora portare una certa attenzione anche al ruolo introspettivo come hanno fatto tutte le grandi sapienze di qualsiasi tradizione con tutti i condizionamenti storici culturali di volte molto ma c'è questo filo rosso no di queste pratiche contemplative cioè di un esplorazione di una dialettica tu hai citato varela no questo grande scienziato veramente un uomo di sapienza cresce possiamo dire un nuovo alchimista no che sapeva far dialogare la parte diciamo spirituale con la parte scientifica no che lui stesso si interrogava come far dialogare la conoscenza in terza persona la neuro fenomenologia per esempio lui proponeva come ipotesi di cambio di ricerca come metodo come far dialogare le conoscenze che piano piano andremo incrementare sul cervello e l'esperienza fenomenologica in prima persona questo è una delle tante vie no ecco lì in queste terre di mezzo secondo me non solo secondo me nessuno c'è il modo di mantenere il giusto equilibrio tra la bellissima avventura scientifica e la straordinaria ricerca di senso no cercando costantemente navigando a vista scoglio dopo scoglio tempesta dopo tempesta nel mantenere viva la domanda di senso no e se veramente accogliamo la straordinaria età di che cosa vuol dire esserci essere un fenomeno che conosce ed essere un fenomeno che sa di sapere nella sua ignoranza ok per cosa incredibile cosa incredibile se uno riesce veramente entrare non tenerla scontata il miracolo la meraviglia e ogni secondo come dicono alcuni mistici no e ottenendo anche il giusto equilibrio tra l'eccesso di entusiasmo e l'eccesso opposto di michelismo di banalizzazione e aggiungo un ultimo elemento su cui di cui mi occupa da diverso tempo non sottovalutiamo quanto non soltanto siamo condizionati culturalmente biologicamente storicamente come perfettamente dici tu ma anche psicologicamente cioè tutta una serie di fattori di credenze di schemi che abbiamo e di vissuti e di traumi di ferite che abbiamo psicologiche che usano e fanno delle interrogazioni di senso o negandola completamente come fanno certi o usandola in modo inconsapevole quindi anche questa dialettica tra il lavoro psicologico individuale e il lavoro più transpersonale di cui per esempio Jung che purtroppo o per fortuna ritorna ai nostri dialoghi è stato uno tra i primi no ma poi ci sono stati anche tanti altri autori no a dare degli spunti ci troviamo sui limiti della conoscenza quindi stiamo ben attenti a voler dare al nostro bisogno di certezze come abbiamo già argomentato tante volte sai cosa mi viene in mente che uno dei motivi per cui come dire materialismi determinismi determinismi nichilismi apparentemente hanno così successo è che il fatto che noi sappiamo veramente molto poco viene non viene accettato viene quasi considerato no una sorta di umiliazione del del nostro soggetto e quindi si cerca di riempire le cose in maniera più o meno pretenziose più o meno fittizia col fatto che invece crediamo di essere un po alla fine della storia no allora puoi capire che il mio atteggiamento invece è l'opposto dire il fatto che noi sappiamo pochissimo ancora vuol dire che ci abbiamo davanti una storia incredibile che poi è la storia della vita e dell'universo no poi l'atteggiamento di newton quando diceva che c'era il grande mare dell'oceano della conoscenza lui faceva castelli di sabbia sulla spiaggia noi siamo così e l'ha detto assolutamente newton no perché dico questo perché che ne allora la domanda la vita nell'universo la psiche nell'universo allora noi quel poco che sappiamo ripeto tirato fuori da un solo pianeta un solo pianeta in un solo periodo dell'universo che è un pochino lunghetto 4 miliardi di anni però di una sola specie sufficientemente evoluta sopravvissuta comunque ci dice che la vita è invasiva perché noi siamo partiti da da qualche batterio e adesso la vita ha condizionato un pianeta intero no perché è il pianeta vivente no lo ve lo che gaia no al di là delle interpretazioni che puoi fare la vita nel pianeta influenza anche le caratteristiche fisico chimiche del pianeta la geologia è condizionata dalla vita la l'atmosfera è condizionata alla vita pianeta il pianeta è vivente o non è da un'origine locale no voglio dire e la psiche ha ammesso no anche se che è sbagliatissimo no ma ammesso che ci sia solo una specie che ha una capacità psichica come intendiamo noi no capacità cognitiva abbiamo detto ce l'hanno anche le piante e quindi il discorso è più vasto perché le piante trasformano è come il pianeta no ma riduciamo la specie umana la nostra mente non si può negare che trasformi nel bene nel male il pianeta no quindi c'è una come dire invasività ma non lo dico in senso negativo anzi in questo senso lo dico in senso positivo una capacità espansiva della vita e della psiche in un luogo determinato dello spazio del tempo però rispetto all'universo questo è un luogo molto molto piccolo allora noi per fare dei discorsi non ti dico più conclusivi che non li farà probabilmente mai nessuno da nessuna parte ma per far solo dei discorsi un pochino più avanzati dovremmo aver bisogno di mettersi in relazione con altri spazi con altri tempi non potendolo per ora fare probabilmente il primo step sarà quando da qualche parte scopriremo dei microrganismi allora valuteremo quanto siano diversi da noi ma in attesa di tutto questo abbiamo però la nostra immaginazione che da questo punto di vista non è staccata dalla scienza ma è un elemento come dire esplorativo che poi può condurre alla scienza e cose del genere cioè il processo di conoscenza del nostro rapporto col cosmo deve mobilitare tutti i nostri linguaggi non è che la scienza su queste questioni ha un potere sommo e non è nemmeno che non conti niente perché vedi quello che stiamo facendo adesso è capire come la scienza si interroga in un gioco di specchi con altri linguaggi umani no quindi noi che ci troviamo di fronte a quest'oceano dobbiamo riprendere l'entusiasmo che probabilmente aveva newton per ragioni sue e personali perché poi lui lui si sentiva un mago diciamo così non si sentiva certo uno scienziato nel senso negativo che possiamo no gli scienziati sono personaggi molto positivi ma voglio dire hanno anche il cottero scuro no quando cedono alle loro narrazioni no eccetera eccetera quindi voglio dire noi per quello perché dico questo perché noi questo è un fenomeno di individuazione psichica che collettiva ma che anche individuale noi dobbiamo capire che la dotta ignoranza cioè il fatto che sappiamo pochissimo non solo è una presa di conoscenza realistica ma è l'unica apertura possibile per andare avanti nella conoscenza scientifica o non scientifica cioè l'avere il senso profondo della nostra limitazione ma che è radicamento è un passaggio psichico fondamentale credo che sia quello che volevi dire per cui l'importanza della valorizzazione della dimensione psichica da questo punto di vista poi ce ne sono mille altri ma impone un gioco di specchi tra l'individuale e il collettivo cioè se io inizio a capire che la mia limitazione individuale della conoscenza è il punto di partenza per il gioco mio infinito della conoscenza individuale posso anche contribuire a cambiare la mentalità collettiva che ti ripeto in questo momento sembra che sia basata su su delle scorciatoie che hai detto te chiaramente c'è il materialismo e il riduzionismo cieco piuttosto che voglio dire in tanti casi non sembra diffuso ma l'intelligent design insomma l'intelligent design sappiamo che metà degli americani e forse anche di più non crede alla teoria dell'evoluzione addirittura credo che il mondo sia stato creato 10 mila anni fa quindi voglio dire è pieno di scorciatoie tutto questo ma non ha queste scorciatoie non hanno un fondamento in sé scientifico sono scorciatoie che vengono fuori da un disagio psichico del non accettare appunto questo gioco della nostra complessità per cui i limiti sono anche il nostro unico modo per vivere bene nel mondo e quindi per questo credo che poi il tema di queste dieci puntate diciamo così no dell'intreccio fortissimo tra l'esterno e l'interno cioè tra quello che conosciamo del mondo e quello che noi proiettiamo del mondo dentro di noi non è solo il tema dei dei greci ma anzi ci troviamo alleati con i greci assolutamente e poi è in qualche modo con questi dieci incontri abbiamo abbozzato come fare tesoro dei lati più virtuosi di 500 anni di modernità e come liberarci dai lacci lacciuoli invece delle parti più rigide o dell'uso che se ne è fatto rigido per uscire finalmente da questa eterna tarda modernità più che post modernità come si diceva al primo incontro e non è un caso che proprio sui fondamenti più esistenziali che si può rigenerare un'ulteriorità culturale fuori da questa tarda modernità ma accenno velocemente poi magari avremo modo di tornarci su con dei video video o un unico video specifico all'ultimo libro di cacciari no metafisica concreta in cui lui proprio cerca di mostrare come nella bellezza della tradizione filosofica occidentale c'è questa dialettica tra la conoscenza scientifica e la conoscenza nello spirito nel senso filosofico del termine non nel senso religioso e io credo che in questo equilibrio in questo equilibrio come anche per esempio ha mostrato francisco varela a suo modo con suo stile sono tanti stili tante sensibilità diverse e porterà avanti questo modo di essere scienziato ma anche contemplativo ma anche in qualche modo filosofo anche se non filosofo di mestiere ecco e in queste terre di mezzo in queste terre di ibridazione come piace dire noi che c'è la generatività che c'è la creatività e la nostra bussola per questa navigazione a vista perfetto allora alla prossima queste domande aperte alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.